Siamo con coach Mario Barbiero, dopo due fruttuose trasferte domenica si torna in casa con Latina, un'altra gara dal sapore particolare e più che per l'appartenenza geografica per la classifica. Sì, è una gara importante per noi perché è uno degli scontri diretti del campionato, adesso al di là dei conti e della matematica salvezza di entrambe le squadre, credo che sia una partita da giocare con grande attenzione, anche perché Latina è un'ottima squadra, abbiamo perso l'andata e quindi dovremmo cercare in questa gara di ritorno di far meglio. Rispetto al genone d'andata Latina ha fatto due innesti, il libero Fagundo Santucci e lo schiacciatore Stern. Che squadra è oggi Latina? È una squadra sicuramente molto solida in ricezione con questi due innesti, è una squadra composta da atleti che hanno fatto una grande stagione, alcuni molto esperti come Parodi, come Sottile, i due centrali Gitto e Rossi sono sicuramente tra i migliori della Superlega, per cui credo che non ci sia nulla da dire sul roster di Latina che è di alto livello. Noi cercheremo di fare un ulteriore passo avanti rispetto all'ultima partita e quindi cercheremo di portare a casa la vittoria. L'obiettivo di Sora per questo turno qual è e come vi state preparando? Sicuramente lo stesso delle altre partite, cioè quello di far punti sempre. Tanto è vero che il nostro campionato è stato sempre in crescendo, perché abbiamo capito qual era la strada giusta, abbiamo capito quali erano i meccanismi di cui avevamo bisogno in campo e la squadra è cresciuta a strada facendo. Credo che questa partita sia altrettanto importante come quella di Vibo, anche se a livello emotivo Vibo e Ravenna ci hanno dato quel qualcosa in più che era molto legato anche al discorso classifica. Adesso il discorso classifica vale un po' meno, però credo che l'orgoglio, credo che la voglia di primeggiare, credo che la voglia di scendere in campo e continuare a fare passi avanti, sia dal punto di vista individuale che di squadra, credo che sia troppo importante per noi. Alla luce del nuovo assetto del settetto di Latina e della grande crescita di quello di Sora, che match sarà? Sono sicuro che sarà un match equilibrato, un match, una partita che credo che sarà molto lunga, perché conosco la caparbietà di Latina, dei giocatori di Latina e conosco la caparbietà dei miei giocatori, per cui credo che sia una partita lunga da combattere, credo e mi auguro che sia anche una bella partita, in modo da far divertire il pubblico che verrà a festeggiare con noi.